Per la frattura dell'osso parietale Eusapia Paladino, 1845-1918 Famoso strumento ad effetti fisici, oggetto di studio di numerosi scienziati. Nacque poverissima, nei pressi di Bari, all'età di un anno stette per morire per la frattura dell'osso parietale, in seguito ad una caduta. Verso i 13 anni iniziò ad avere manifestazioni medianiche di ordine fisico. Produsse la personalità di John King, che disse di essere stato un corsare inglese. Lo psichiatra e antropologo italiano Enrico Morselli cercò di giungere ad una classificazione dei fenomeni prodotti dalla Paladino, ma, come sempre, in vano. Ogni strumento produce fenomeni suoi propri che sfuggono ad ogni indagine della mente.